Buonasera dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. In A1 panoramica per consentire attività di ispezione delle opere d'arte, stanotte in orario 21.06 sarà chiuso il tratto tra Rioveggio e Aglio in direzione Roma. Per lo stesso motivo stanotte in orario 22.06 sarà chiuso il bivio a 1.11 per chi proviene da Pisa ed è diretto verso Bologna. Per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze in Viale Amendola, fino all'11 febbraio transito e sosta nel controviale tra Via Giotto e il numero civico 48 interrotti all'altezza di un cantiere. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!